Ciao ragazzi e benvenuti, oggi siamo di nuovo in quel giorno del mese dove arriva la Vootbox quindi io non vedo l'ora di unboxarla, ho registrato subito il video, mi sono messo qui praticamente me l'hanno consegnata questa mattina e vi ricordo che il mese scorso ho trovato nella Vootbox questa Qfig dei Guardiani della Galassia e questa Misteri Mini e anche questa maglia di God of War ragazzi come vi dicevo il mese scorso secondo me vale la pena acquistarla perché costa meno di 25€ spedizioni incluse, arriva dalla Francia, arriva puntualmente i primi giorni del mese e secondo me il contenuto supera sempre la cifra spesa quindi il gioco vale la candela a differenza di altre box che non voglio neanche nominare ragazzi eccola qui, questo mese il tema è la sopravvivenza vi spoilerò già che il tema del mese prossimo l'ho visto su Instagram sarà cartoni animati e dovrebbero esserci cose di Rick e Morty, di Toy Story e anche di South Park e di qualche altro cartone quindi non vedo l'ora, spero di prenderla e di ricerla ragazzi ecco qui la nostra bella box e adesso ve la mostro e vi faccio vedere il contenuto ecco qui, vediamo prima guardate voi e poi guardo io ecco qui il contenuto, io non so se già si vede qualcosa, no c'è una rivista sopra ecco qui, beh vediamo cosa c'è all'interno ragazzi Funko Pop è andata benissimo anche questo mese Funko Pop praticamente già oltre il 70% della box si è ripagato da solo ed ecco che c'è il Funko Pop di Lara Croft che direi assolutamente in tema con la box Lara Croft figura in vinile numero 333 si tratta della Lara Croft del film, non quella del videogioco e quindi la tiriamo fuori e la andiamo a guardare un po' meglio eccola qui ragazzi, davvero scolpita benissimo è super super dettagliata, ha addirittura attorno alla vita una corda, un telefonino ha l'arco di traverso nel busto infilato dentro il Pop quindi prima di inserire la testa probabilmente hanno infilato l'arco di traverso ha le sue frecce e poi tra le mani tiene anche una pistola e la sua arma che abbiamo visto nel film questa sorta di piccone super tecnologico, davvero bellissimo io ho visto uno speciale se non sbaglio di Fraffrog che era andata sul posto dove hanno girato le riprese e appunto facevano vedere come quest'arma fosse finta ma ne esistevano anche delle copie originali e quanto fosse stato complicato produrre un'arma così con questa forma molto accattivante quindi molto molto moderna mi piace, mi piace tantissimo questo Funko Pop poi ha il sangue che scorre dalla fronte tantissime ferite sul corpo addirittura una benda attorno al braccio davvero uno dei Pop più dettagliati degli ultimi tempi e poi anche i capelli sono molto molto belli perché ha questa coda che sembra un po' svolazzare sul retro quindi anche in questo caso figura decisamente molto molto dinamica mi piace probabilmente ve lo dico in modo molto onesto io non avrei mai comprato il Funko Pop di Lara Croft però trovarlo dentro la box è tanta roba quindi davvero molto molto contento di aver trovato un Funko Pop a differenza di altre dove lo hanno messo soltanto la prima volta e poi non l'hanno più messo sapete a chi mi riferisco bene, continuiamo abbiamo la nostra magliettina e questa volta magliettina di Nightmare ragazzi, Nightmare ecco qui, ve la faccio vedere io non vado matto per Nightmare però devo dire che la maglietta è carina è davvero molto molto carina la qualità mi piace è davvero buona vediamo se è 100% cotone sì, 100% cotone infatti si sentiva già al tatto anche la stampa molto ben fatta devo dire che mi piace mi piace parecchio il mese scorso mi avevano mandato una L ed è infatti un po' grandicella questa volta ho scelto la M quindi eccola qui ma non è ancora finita qui perché troviamo anche la solita spilletta che troviamo ogni mese in questo caso c'è scritto survival rule 2 double tap quindi doppio sparo praticamente regola di sopravvivenza numero 2 sparare due volte credo più o meno dovrebbe essere così e non è ancora finita qui perché abbiamo questo che è un volumetto di Resident Evil beh ragazzi io non sono fan della saga non ho mai giocato a questo gioco però già vedo il prezzo qui dietro c'è il prezzo scritto dietro costa 8,90 euro questo libro quindi 9 euro solo questo ed è un libro che parla della storia appunto di Resident Evil beh ragazzi questo è tutto in inglese è tutto in inglese però tutto a colori si parla dei videogiochi a quanto pare perché ho visto il gioco per PS4 ma ci sono anche altre versioni quindi è proprio una storia completa di tutto il videogioco fin dalle primissime origini questo qui credo proprio che lo regalerò al mio migliore amico perché è patitissimo di questa serie e poi non è ancora finita troviamo questo che invece è The Last of Us anche questo credo sia un videogioco confermatemelo ma credo di sì devo averlo visto su qualche canale e adesso lo apriamo ok tiriamo via il celofan e vediamo cos'è vediamo cos'è ok no ok molto carino è una raccolta di 40 mini poster stampati ad altissima definizione guardate quanto sono belli davvero molto molto belli guardate qui sono davvero molto stampati molto 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 bene io purtroppo non conosco il gioco l'ho solo sentito dire ma posso ben capire che chi è fan di questa saga sicuramente apprezzerà questo tipo di cosa questo somiglia un po' a Ned Stark vero? ditemi di sì ditemi che non sono pazzo e ragazzi ecco qui ci sono davvero tantissime tantissime immagini quindi roba ufficiale davvero molto molto soddisfatto andiamo a vedere cosa c'è qui nel catalogo di solito loro mettono tutti i prezzi il valore di ogni singolo pop allora qui loro hanno messo la foto del pop di Lara Croft versione videogioco però non so se sono stato io sfortunato a trovare quella del film o se hanno sbagliato non lo so però loro qui lo valutano 15 euro e ci sta diciamo 13 è una valutazione più realistica la magliettina qui viene valutata 20 io direi più sulle 12 euro quindi siamo già tra pop e maglietta siamo già attorno ai 25 euro abbiamo già superato il valore di quello che abbiamo speso poi questa raccolta di cartoline loro la valutano 12 euro ma potrebbe tranquillamente costare 10-18 euro quindi già siamo intorno ai 33 euro e poi abbiamo ancora questo libro che ha il prezzo impresso e costa 9 euro quindi direi che siamo attorno alle 45 euro di valore perché abbiamo anche la nostra spilletta io sono sincero a me non appassiona tantissimo questo tipo di tema questo qui della sopravvivenza perché non gioco a questi giochi però conosco assolutamente Tomb Raider per sentito dire anche le altre cose e il mese prossimo invece sono già molto molto fomentato perché sarà appunto cartoon e quindi con me sfondono una porta aperta e non vedo l'ora la cosa bella è anche questa che ogni mese c'è un tema diverso si cerca di accontentare tutti e già hanno promesso su Instagram che il valore della prossima box è di 60 euro quindi non vedo l'ora ragazzi Toy Story soprattutto il mio film Pixar preferito in assoluto ragazzi sotto in infobox trovate il link per acquistare la footbox se l'acquistate adesso tra l'1 e il 2 di giugno sicuramente vi arriverà magari non il 2 che è festa qui da noi ma il 3 diciamo così e ragazzi quindi io ve la straconsiglio continuo ad essere soddisfatto di questa box che può piacere o non piacere in base al tema ma comunque viene spoilerato prima il tema ogni mese anche su Instagram vi lascio sotto il loro contatto così potete decidere se il tema è di vostro credimento o meno a me l'hanno inviata e devo dire che comunque il contenuto ne vale assolutamente la pena ragazzi anche per questo mese footbox è andata speriamo di vederne un altro il mese prossimo mi raccomando cliccate come dei forsennati nei link sotto in infobox soprattutto quello di footbox bene ragazzi io a questo punto vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine fatemi sapere sotto nei commenti cosa pensate di questa box vi lascio nelle schede il video all'unboxing di quella precedente qualora il video vi fosse piaciuto mi raccomando commentate condividete iscrivetevi al canale qualora non potete iscritti lasciate un mi piace e noi ci vediamo prestissimo con tantissime altre novità ciao